Io ho scritto una programma, ho scritto un po' di televisione. Io ho scritto e faccio tutto. Cossina, teatro, perché io sono un artista, un professore. Io ho scritto. Io sono José Carares perché voglio fare un programma, un programma, un telemozione. Voglio fare un artista. Lo dico, lo dico, lo dico, lo dico. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E io voglio fare un favore. Per me, voglio parlare con tutti. Io voglio parlare con tutti. Io voglio parlare con tutti. Io sono José Carares e voglio lavorare con tutti. Otro dato, nuacca. Andà.